E adesso è morto, sappiamo tutto e quasi, e l'assassino niente. Però c'è un sacco di gente che ti racconta quello che è successo, che loro dicono che è successo. E quindi l'ho già domani giornale. Delitto in autostrada, misteriosa morte di un camionista, sangue nello squallido mondo degli omosessuali, il grande traffico e i suoi retroscetti. L'ho sorpresa, spaventata, ha fatto paura. Ma è paura poi, signora, segui lui, paura, e se no che lei non può stare qui. Polizia, l'intagini in corso, c'è un morto, lo vedi? Lo vedi? E allora sì, non può stare qui, se ne è andata. Vuole controllare i miei documenti? Ero in viaggio sull'autostrada, quando noto una certa confusione, l'auto della polizia mi sono detta, voglio andare a vivere. Io sono fatta così. Nella mia vita ho preso molte decisioni possive di sposarmi, di separarmi, di trasferirmi a Roma, di fare un lavoro che mi permettesse di viaggiare. Decisioni, mi creda, delle quali non mi sono mai pentita, perché ho sempre seguito l'istinto, l'impulso del momento, e non è sempre facile per una donna. Stasera ricorrivo un istinto, è stato bello di venire a vedere. Volevo vedere cosa succedeva, curiosità femminile, volevo vedere come si faceva, come lavorava la nostra efficiente polizia, e magari, se capita, anche non rida. No, no, non rida, non rida, dica, signora, dica. Hai chiedere un amore. Signora, ma non è un lavoro la donna? Lei è un furfante, eh, mi aveva promesso... No, promesso di non ver niente, l'ho visto io niente proprio. Le racconto una cosa, l'ho saputa prima a parte. C'è un altro camionista, che se la faceva con la mente. Che mondo? Ah, del mondo? Sì. Ma cos'è una giornalista, lei? Ma no, una giornalista. Ma cosa le viene in mente? Le sembro una giornalista. Se fosse una giornalista ci sarebbe scritto così sui miei documenti. Giornalista, una promessa. Un'altra promessa. Sì, un'altra promessa, quella di non guardare la fotografia, sono venuta così male, sa. Nelle fototessere si sembra sempre dei mostri, dei ricercati. Allora? Che idea si è fatta? Io dico che... La modella, ecco, la modella è molto meglio del risalto, vieni. Ma no, ma che cosa è? Hai capito? Mi sta prendendo in giro, stanno parlando del caso. Per il momento è difficile dire, però, signora, bisogna tener conto di... Di più... Chiarete a me? Il dramma passionale. Il dramma passionale piace. Va sempre. Lui, lei, l'altro, di triangolo infernale. Signora, ci penserà il giudice? Perché quello che penso io... No, 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 certo, ci penso il giudice, ma se dovesse decidere lei, se lei fosse il giudice istruttore... Beh, e... Dico che, no, secondo me... Secondo me, non so... Ci vedrei... La moglie non c'entra. Per soncina poco simpatica la moglie, ma lei non c'entra. No, secondo me ci vedo, ecco, una... Dico, mi viene meglio, signora, una storia di ricatti, ecco, corruzione, un regolamento, una vendetta. Ma che cosa vai a tirare fuori? Perché te lo dici se ha degli indizi? No, sì, non quale indizi? Niente indizi, ma qualche idea. E poi, le cose che passano per la testa di notte, una notte... Ma lei ha ragione. È stanco, è tardi. E io la sto tormentando, mentre in una notte come questa tutti vanno via, vanno al mare, in vacanza, venga per cadire, venga, si prenda una pausa, andiamo al bar. Offro io. Perché è troppo oggettivo, io non potrei, sono in servizio. Buonasera. Aspetta un momento. Polizia, circolare, chi è lei? Che fai? Scusi perché lei era saputo che la mater...